Radiatore mezzo caldo mezzo freddo? Con buona probabilità avvia dell'aria all'interno dell'impianto. Se stai a guardarmi ti farò vedere come si fa a ripristinare il corretto funzionamento. Con un recipiente ci avviciniamo alla valvola di sfiato del radiatore. Apriamo lentamente la valvola e la teniamo aperta finché inizia ad uscire solamente l'acqua. Richiudiamo la valvola. Ripetiamo la sequenza per ogni radiatore presente nell'impianto. Infine controlliamo che la pressione dell'acqua in caldaia sia tra 1,5 e 2 bar. Se la lancetta dovesse segnare un valore inferiore ad un bar occorre ripristinare la pressione dell'acqua agendo sullo specifico rubinetto di riempimento impianto. Nella maggioranza dei casi dopo aver eseguito questa operazione il tuo impianto riprenderà a funzionare perfettamente e quindi il radiatore scalderà in maniera uniforme. Qualora tu dovessi avere ancora qualche piccolo inconveniente ti invitiamo a rivolgerti al tuo centro assistenza tecnica autorizzata a Imergas il quale con grande professionalità ripristinerà perfettamente il funzionamento della tua caldaia. Se il video ti è piaciuto metti mi piace e lascia un commento. Ti aspettiamo al prossimo video!